Ciao a tutti cari ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video Milinkovic Savic Juventus Allora ne abbiamo già parlato un po' in questi giorni io ribadisco rimango un po' scettico sulla possibilità di vedere Milinkovic Savic effettivamente alla Juve Perché boh non lo so io sono sempre di quella secondo me la Juve difficilmente riuscirà a fare un colpo così grande pagando cash Però se ne sta parlando tanto in questi giorni gli organi di informazione lo danno come nome concreto Si pensa che la Juventus e la Lazio possano davvero trovare l'intesa per il calciatore Io rimango un po' basito di fronte a queste cose ma al frattempo incrocio le dita affinché possa accadere E quindi Sergei obiettivo principale per la vecchia signora dove potrebbe giocare nella Juve di Allegri E ovviamente il titolo è tutto un programma perché voglio ragionare su Paolo Di Bala Sul non rinnovo di Paolo Di Bala e su Milinkovic Savic e quello che verrebbe richiesto a Milinkovic Perché è vero che da un lato sono qua a dirvi boh mi sembra strano che possa accadere davvero Dall'altro invece vi dico profilo perfetto per quello che secondo me sta cercando Massimiliano Allegri Con calma andiamo subito a vedere quelle che sono le slide che ho preparato Ero partito da questo ieri sera Secondo voi Milinkovic Savic alla Juventus dove verrebbe impiegato da Allegri? Ruolo e modulo? Io una mia risposta in testa ce l'ho, ve la voglio annunciare in questo video Voglio però capire se sono l'unico pazzo che sta pensando a queste eventualità E mi avete dato diverse risposte abbastanza sensate, abbastanza interessanti Magari le più facili, le più banali E altre invece che sono un po' più articolate Che vanno a prendere in considerazione qualche modulo in più E che vanno anche a sposare alcuni dei punti che avevo preparato appunto per queste slide Ma ve le voglio come sempre dimostrare basandomi su quello che ha già fatto Allegri Su quello che sappiamo essere la sua idea di calcio Perché Massimiliano Allegri non lo conosciamo certo quest'anno Questo è il sesto anno da Nettore della Juventus Abbiamo un sacco di materiale a cui aggrapparci Per capire quello che è effettivamente quello che serve a Massimiliano Allegri Prima però una breve panoramica sul calciatore Milinkovic Savic è un 1995, classe 95 È un metro e 91, quindi giocatore molto molto alto Un giocatore che può aggiungere centimetri Qui a sinistra vi ho evidenziato in giallo i numeri più importanti Quindi 31 partite giocate in totale Il cui 30 da titolare, una media di 83 minuti a partita 9 gol con quasi 2 tiri a partita e 9 assist Insomma diciamo che sono numeri interessanti per quello che di professione fa il centrocampista E non l'attaccante Ma bene o male Milinkovic Savic è una sorta di attaccante aggiunto per la Lazio Ma dove gioca? Nella Lazio viene utilizzato come mezzala destra in un 4-3-3 Gli altri due sono appunto Lucas Leiva davanti alla difesa E Luis Alberto come mezzala di sinistra a completare il reparto Ma c'è un ma, secondo me la Juventus non andrebbe ad acquistare Milinkovic Savic Con l'idea di farlo giocare sulla destra Bensì sulla sinistra Che è una delle grandi necessità di Allegri da un po' di tempo a questa parte E quindi ho cercato di capire se effettivamente veniva utilizzato sempre solo sulla destra Non da Sarri, bensì dalla nazionale Questa invece è il litmap di Milinkovic Savic di come viene utilizzato nella Serbia Questa è il litmap della qualificazione al mondiale Tra l'altro lui e Vlaovic sono già andati al mondiale Hanno buttato fuori Ronaldo che poi è dovuto entrare tramite i playoff Che conosciamo bene purtroppo per forza di cose Quindi c'è stato questo intersecarsi i giocatori, l'Italia, la Juventus Insomma vabbè, una roba che ormai appartiene al passato Ma nella Serbia viene utilizzato come mezza alla destra O mezza alla sinistra come potete vedere rispetto alla last Dove bene o male va a coprire la zona destra O addirittura come trequartista di centrato Come potete vedere lì a sinistra È la posizione più occupata da Milinkovic Savic Che può giocare in appoggio a una punta Che potrebbe essere anche lo stesso Vlaovic E quindi cerchiamo di capire tramite queste informazioni di base Di dove viene utilizzato il suo allenatore Quelle che sono state le sue caratteristiche Le sue statistiche stagionali Come potrebbe essere utilizzato da Legrin In un eventuale Juventus del futuro Io parto da qua Che cos'è questa? Vediamo se qualcuno di voi se la ricorda Fa male, fa molto male Ma è un ricordo fresco Perché proprio l'altra sera Il Chelsea fa la stessa partita Che fece la Juventus proprio al Bernabeu 3-0 al 75esimo Per poi prenderlo lì nei minuti finali Doppietta di Mandzukic Gol di Matuidi su un errore di Keylor Navas Questa è la Juventus che al Bernabeu sfiora l'impresa Dove Buffon viene poi espulso all'ultimo minuto Per il fallo di Benatia su Lucas Vazquez Questa è una Juventus di allenatore Massimiliano Allegri Schierata con il 4-3-3 Quindi potrebbe essere benissimo utilizzato Milinkovic Savic Per andare a ricoprire il ruolo di Mezzala Come facevano Chedira e Matuidi E quindi adesso io vi metterò la formazione della Juventus Con soltanto i giocatori che sono già presenti nella Rosa della Juve Più Milinkovic Savic Quindi non fatevi problemi Perché poi lo so che qualcuno mi verrebbe a dire Ma però quello lì in realtà al prossimo anno non ci sarà Questo non è certo Ho preso la Rosa della Juve attuale Perché sarebbe stato troppo complicato metterci altri nomi Più Milinkovic Savic Quindi una formazione banale potrebbe essere questa 4-3-3 Con quelli che ci sono Milinkovic Savic a coprire la posizione di Mezzala sinistra Che come abbiamo visto fa anche in nazionale È vero che nella lastra gioca Mezzala di destra Ma questo non significa niente E pensando anche un po' alla Juventus Pensando a Zaccaria Pensando a McCennie Che sono giocatori che sono stati utilizzati da Allegri Più frequentemente sul centro-destra Lo stesso McCennie è stato utilizzato anche a sinistra Ma Allegri l'ha detto Lo preferisco dall'altra parte A sinistra perde qualcosa Quindi noi abbiamo la necessità Di andare a sostituire Rabiot Dai titolari in quella porzione di campo E questo potrebbe essere un'idea Per andare a formare Una sorta di 4-3-3 Con caratteristiche differenti Ovviamente rispetto a quelle Con cui siamo andati a sfiorare l'impresa al Bernabeu Però iniziamo a capire alcune cosine Che sicuramente andrà a pensare Massimiliano Allegri Tipo questa Questa ve l'ho già messa qualche giorno fa Questa è la fase di non possesso Della Juventus di Massimiliano Allegri Molte volte così Non sempre Ho già fatto anche un video in cui parlo Della fase di non possesso In cui Allegri va aggressivo Quindi contro le squadre che hanno la difesa 3 In cui cambia tutto Ma questo è un altro discorso Facciamo 90% dei casi Allegri difende in questo modo Con la Juventus Non gli importa Come vengono posizionati i giocatori Cerca di far scalare semplicemente Un giocatore sull'esterno In questo caso Milinkovic Andrebbe ad allargarsi Banalmente Per formare il 4-4-1-1 In fase di non possesso Che vuole Allegri Ok? Che è un po' Anche qualcosa che abbiamo visto Per dire ieri sera Con il Manchester City Tante volte il Manchester City Andava a formare queste due linee da 4 Tenendo due giocatori un po' più avanti A rotazione Però non voglio entrare Troppo nei dettagli Anche perché tra poco Vedremo qualcosa di simile Quindi la stessa formazione Sugli stessi 11 All'interno di questo video Vi farò vedere tante altre cose Banale Milinkovic Andrebbe semplicemente A spostarsi in fase di non possesso Per creare l'ampiezza E formare le due linee da 4 Semplice Andiamo avanti Perché questa che cos'è Chi è quest'uomo baffuto Ne abbiamo già parlato tante volte Questa è la Volpe Questa è la salida alla Volpiana Che è praticamente Una concezione tattica Secondo la quale Alziamo gli esterni Si abbassa il pivoti Centrocampo Il giocatore avanti La difesa Locatelli Si allargano in centrali E quindi può impostare Con un uomo in più Allegri l'ha fatto Tante volte Quest'anno Sulla salida alla Volpiana Però c'è un problema Tra virgolette In realtà Che è Danilo Che in quella posizione Non vedo perfetto Quindi dovessimo decidere Di giocare Con questo sistema di gioco Cercando di sfruttare Gli esterni La salida alla Volpiana In questo modo Probabilmente lì sarebbe Quadrado Il più adatto E quindi Stavo cercando di capire Quale potrebbe essere Invece La strada maggiore Con Danilo titolare Perché Perché Quadrado Lo sappiamo Vicino al rinnovo Io Quadrado Lo vedo un po' Come il backup di Chiesa Non perché lo voglio io Ma per come ragiona Allegri E quindi un giocatore Che va a occupare Quella zona di campo Con Danilo Che diventa molto più Utile Per fare un altro tipo Di calcio fluido E adesso ci arriviamo Che potrebbe essere Il seguente Allora Qualcuno mi diceva Milinkovic Savic potrebbe fare Il trequartista Nel vertice alto Nel 4-3-3 vertice alto Questa è La tesi Di Massimiliano Allegri Da allenatore Quando diventa Allenatore di calcio E questo è Come lui analizza Il triangolo Di centrocampo A vertice alto Abbiamo due giocatori L'8 e il 4 E il 10 Che in questo caso Sarebbe Milinkovic Savic Due mediane Avanti la difesa E un trequartista Diventa interessante Perché Leggete Quelle che sono Le descrizioni Dei due giocatori Davanti la difesa Uno con caratteristiche Più da regista Quell'altro Invece è in grado Di dare Tanta dinamicità E tanta corsa Più un buon colpo di testa Regista Locatelli Dinamicità Corsa Zaccaria Che non ha Un grandissimo Colpo di testa E allora Il gioco aereo Potrebbe essere Messo a disposizione Da Milinkovic Savic Che potrebbe benissimo Giocare Come mezza punta Nel 4-2-3-1 Con altri due giocatori Esterni Che potrebbero Ma banalmente È lo stesso 4-3-3 di prima In cui abbiamo Leggermente Shiftato Abbiamo semplicemente Invertito il vertice E non è più Locatelli quello basso Ma Milinkovic quello alto Non cambia praticamente niente È un modo di muoversi In campo Perché è importante questo? Perché io lo vedo Anche in questo modo Era questa l'idea tattica Che mi veniva in me Che idea tattica Ma Io penso Che Allegri Possa ragionare Anche in questo modo Questo che cos'è? Esattamente quello Che abbiamo visto prima Il 4-4-2 4-2-3-1 4-4-1-1 In fase di non possesso L'abbiamo visto Davvero 5 minuti fa E lì Sulla sinistra Milinkovic Savic Che cosa Che cosa mi fa venire in mente Pensando a questa stagione Perché lo so Che appena Premerò il mouse Sarete imbestialiti Ma È quello che È stato chiesto a Rabiot Per tanto tempo Ed è quello che ci ha fatto infuriare Per tanto tempo Perché lì proprio Non si poteva vedere E lo so che tanti già Saranno qui a dire No Milinkovic Savic 5 minuti Come Rabiot Un attimo Voglio spiegarvi Perché lo vedo lì Intanto In primis Per la ricezione Dei palloni alti Come faceva Mario Mandzukic Perché qualcuno Me l'ha già scritto Ma io come Mandzukic Non ce lo vedo Un attimo Lì sarebbe semplicemente Utilizzato per la ricezione Delle palle alte Poi quello che si chiede a Rabiot Proprio in quella posizione lì Rabiot l'ha fatto decisamente male Ma l'idea di punta Qual è? Questa qui Quella lì è la fase di non possesso Questa è la fase di possesso Se prima vi dicevo Che Danilo Probabilmente a tutta fascia Non aveva senso E che quindi non aveva senso Abbassare Locatelli E allargare Si blocca Danilo Si alza Un terzino Savic Dall'esterno Va dentro il campo Dentro il campo Nella zona di rifinitura A supporto delle due punte E quando attacchiamo Eccoci qua Dove l'abbiamo già vista Questa cosa? Noi juventini E di recente nel calcio Mi rimetto qua Non sono due a caso Questa è l'idea di Pirlo Assolutamente l'idea di Pirlo Rimane bloccato un terzino L'altro si alza Quello che era esterno Diventa trequartista Le due punte davanti Uguale 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 Come giocava Pirlo Questa è Proprio L'idea Che aveva Pirlo Semplice Banale Solo che faceva chiesa L'esterno di sinistra Però L'idea è quella lì Proprio tranquilla Guardiola l'ha fatto l'altra sera Ieri sera Contro l'Atletico di Madrid Pellegrini come Cancelo Con le dovute proporzioni Di livello Ma Pellegrini che si alza Danilo come Walker Che stringe Chiesa come Mares Che si allarga E poi lì c'è un via vai Allora Guardiola giocava con un solo pivò Davanti alla difesa L'idea di Allegri Secondo me sarebbe Quella di inserire Milinkovic Savic Proprio dentro Il campo Per aumentare le palle In zona di rifinitura Per Vlaovic E che è quello che sarà Il compagno di Vlaovic Perché bisognerà vedere Se sarà Morata Se rimarrà la Juve Però questa È un'idea molto Molto banale Molto molto semplice E questa cosa L'abbiamo vista fare Ad Allegri Tantissime volte Quest'anno Con una differenza Rabiot non lo mette Sulla tre quarti Rabiot lo mette A fare la mezzala E quindi Non riesce a dare Quella cosa in più Ma banalmente Perché Rabiot non può dare Quello che andrebbe a dare Milinkovic Sulla tre quarti E qual è Uno dei difetti Più grandi Della Juve di quest'anno Non riuscire A concretizzare Diverse Palle Gol E questo avviene Probabilmente Perché I palloni Vengono serviti Male Negli ultimi metri In questo modo Avresti Chiesa e Pellegrini A dare grande spinta Sugli esterni Milinkovic A dare una buonissima Zona di rifinitura E due attaccanti Pronti a ricevere Dall'esterno E per via centrali In modo per Massimizzare Anche i palloni Giocabili Per Vlaovic Negli ultimi metri Qualcuno potrebbe dirmi Uguale a Mandzukic No No Perché Mario Quell'anno Nel 4-2-3-1 Prendeva molto L'ampiezza Non so se vi ricordate La gara col Barcellona Dove Di Bala Fa la doppietta E Chiellini Fa il 3-0 I gol nascono Tranne quello di Chiellini Tutti dalle fasce L'eventus attaccava Sempre dalle fasce Pochissimo in orizzontale Tanto in verticale Tanto dagli esterni Mandzukic Si allargava Savic Andrebbe lì Nella fase di non possesso Quindi dove c'era Mandzukic Perché ad Allegri Serviva uno come Mandzukic Per caratteristiche fisiche Quindi uno alto A ripulire i palloni Quando si vuole lanciare lungo Sulla ripartenza E sulla chiusura Ma poi Savic Andrebbe a giocare Dentro il campo Cosa che Mandzukic Non faceva sempre Se non nei momenti In cui la Juventus Giocava col tridente puro Di Bala e Guain Mandzukic Alzando Alessandro E quadrado Sugli esterni Esattamente come Abbiamo detto prima Dove Milinkovic Savic Andava a fare Anzi dove Di Bala Andava a fare il trequartista Cosa che adesso Andremo a chiedere A Milinkovic Savic È più Come Pogba È un po' Più come Pogba Perché tante volte Pogba è stato Inserito proprio In quella posizione Da Massimiliano Allegri E qua ve lo dico subito Non focalizzatevi Sulla posizione in campo Quello davvero importante È il compito Che viene effettuato Che nasce dalla richiesta Che ha l'allenatore Pogba difendeva da quarto A centrocampo Lo ha fatto anche Nell'anno di Berlino Dove siamo arrivati In finale di Champions Ma entrava dentro il gioco Partendo da sinistra Tra l'altro Poteva centrarsi Per il tiro Cosa che potrebbe fare Anche in Milinkovic Savic Io qua vi ho messo Questa formazione Non so se ve la ricordate Questa formazione Perché questa L'abbiamo utilizzata Effettivamente con Pogba Che poi entrava Dentro il campo Anche questa Come prima L'avrei indovinata Sicuramente per Buffon Col cartellino rosso Qui vi do questo indizio Che cosa vi ricorda Simone Zazzo 88 E avete già capito Di cosa stiamo parlando E quindi Ecco spiegato il titolo Perché La volontà di rinunciare A Paolo Di Bala Potrebbe essere spiegata Proprio per la necessità Di avere un giocatore Come Milinkovic Savic Abile intanto In fase Di copertura E di non possesso Essendo un giocatore Che lì Storicamente Allegri ha sempre voluto Mandzukic Pogba Addirittura Matuidi Quest'anno Rabiot Sono giocatori Non dico uguali Perché non è vero Però L'idea di fondo Il ragionamento È quello lì E Milinkovic In quella posizione Andrebbe a nozze Ma soprattutto La possibilità Poi di avere Un giocatore Molto forte Nella rifinitura Molto forte Nel tiri da fuori Molto forte Nella concretizzazione Nei passaggi chiave In tutto quello che serve In quella zona di campo E che guarda caso Poi tra l'altro Conosce molto bene Anche Vlaovic Perché sono compagni Di nazionale Una Juventus Tutta serba Forti tinte serbe E quella zona di gioco Notoriamente Viene presa proprio da Paolo Di Bala Che è il giocatore Per eccellenza Che negli ultimi anni Nella Juventus Ha giocato tra le linee E allora Via Di Bala Dentro Savic E spiegherebbe Un po' tutto Anche la volontà Di non andare A rinnovare Paolo Di Bala Ha delle cifre Che possono essere Molto alte Per le casse della Juve E quindi reinvestire Quei denari Su Milinkovi Savic Come vi dicevo Qualche giorno fa Non ragionate Sul Raspadori Come erede di Di Bala Per Raspadori Prendete in considerazione Moise Ken Se la Juventus Decide di andare Sul Raspadori Per quanto mi riguarda E perché decide Di non andare avanti Con Moise Ken E ha trovato La possibilità Di non rinnovare Di non riscattare Moise Ken E poi termino Con questo Perché oggi purtroppo Vabbè Qua è finita L'analisi tattica Oggi purtroppo Sono dieci anni Che un mio amico Ci ha lasciati E volevo Un ricordino Non volevo lasciare Un ricordo Di quello che è stato Purtroppo Dieci anni Wow Sono tanti Dieci anni Sono tanti E niente Fatemi sapere Se l'analisi tattica Vi è piaciuta Se avete Se vi ho convinto Anche banalmente Sul fatto che Milinkovic Savic Potrebbe essere utilizzato In questa maniera Se l'avevate preso In considerazione Fatemi sapere un po' Tutto Di queste cose qui Ciao ragazzi A domani Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti